Appena ci hanno consentito di poter accedere all'interno di quelle spiagge, noi abbiamo provveduto a ritirare tutti i rifiuti spiaggiati, cioè tutti i rifiuti prodotti dal mare dalle mareggiate e abbiamo pulito quella zona. Il problema però rimane per quanto riguarda una barca? Sì, effettivamente ci siamo trovati di fronte a un'imbarcazione, diciamo. E noi prontamente abbiamo segnalato il tutto ai corpi di polizia, i quali chiaramente dopo aver effettuato tutte le loro indagini per trovare se possibile il proprietario, ci diranno successivamente se quel materiale, questa barca può essere rimossa oppure non deve essere lasciata nella posizione in cui si trova. Fin quando noi non avremo questa determinata indicazione da parte dei corpi di polizia, non abbiamo la possibilità di poter rimuoverla. Non bisognerebbe abbandonare i rifiuti, ma comunque quando un cittadino trova un abbandono, vede un qualcosa di anormale sul territorio, chiaramente ci può avvisare e indicarci dove si trova quel determinato rifiuto. Può capitare che la posizione in cui il cittadino può trovare questo rifiuto sia abbastanza complicato da trovare, anche da spiegare. Allora sarebbe opportuno che il cittadino lasci anche un suo recapito telefonico, prevalentemente cellulare, con il quale avremo la possibilità di poterlo ricontattare per avere delle indicazioni più precise e ritrovare il rifiuto che viene messo in evidenza.